Buongiorno e ben trovati per l'appuntamento. Buongiorno mattutino con l'edicola di TVL, cominciamo subito dando uno sguardo alla cronaca di Pistoia con alcuni dei articoli che ha scelto la Nazione questa mattina. Si comincia con una notizia che viene da fuori provincia, dalla Liguria per la precisione, una notizia di un terribile scontro in un'autostrada che ha avuto per conseguenze un'automobilista pistoiese gravissimo in ospedale. 56 anni è finito sul Gareil, sull'autostrada A12 Genova-Rosignano nella zona di Colle Salvetti. In fin di vita dunque un 56enne di Pistoia dopo l'orto con l'auto articolato, il forgoncino su cui viaggiava insieme a un collaboratore, un 41enne residente a Prato. Il leso il conducente del mezzo pesante, questo per la cronaca. Poi c'è un articolo interessante che riporta dalla montagna ancora la Nazione, una scritta shock contro gli stranieri. Siamo pronti a sporgere denuncia, un fatto davvero poco simpatico, una scritta contro la presenza di immigrati sulla montagna, in questo caso nel comune di San Marcello, all'imbocco di Viale Villa Vittoria nel piano centro del paese montano. Lettere di grosse dimensioni, una scritta dunque in stampatello, tracciata sull'asfalto con una bomboletta spray di colore nero e in basso stilizzato del cerchio con la croce celtica. Abbiamo subito preso provvedimenti, ha spiegato il sindaco Silvia Cormio, si è cancellato dunque questa scritta e poi il sindaco definisce l'accaduto una forma inaccettabile di razzismo che a nome di tutta l'amministrazione condanno nella maniera più assoluta e ci siamo anche attivati per valutare la possibilità di sporgere denuncia contro ignoti. Questo per la nazione è un fatto davvero non bello a San Marcello. Il terreno invece nella pagina su Pistoia apre con una notizia di sindacale, la marcia dei metalmeccanici per il contratto, anche le tute grigie dell'ex Anzaldobrada tornano a spilare in città dopo due anni. I metalmeccanici dunque della provincia Pistoia incroceranno le braccia mercoledì 20 aprile dalle 9 per 4 ore in sostegno dello sciopero nazionale che è stato indetto per il mancato rinnovo del contratto collettivo nazionale che è scaduto il 31 dicembre. Pistoia ritrova invece di Giole di fronte allo stabilimento Itasci dove il corteo degli operai metalmeccanici delle aziende di tutta la provincia comincerà il suo percorso per le vie cittadine fino a raggiungere la sede di Assindustria in piazza Garibaldi. Primo sciopero anche dunque per i lavoratori e adesso Itasci, una vertenza però che non riguarda lo stabilimento ma la situazione nazionale dei metalmeccanici. Nella pagina del Valdegnevole per la precisione in quella di Montecatini il terreno invece dà ampissimo spazio al centenario del Sesana, tanti eventi aperti dal rombo del cannone perché da domani il via alla nuova stagione di corsa all'ippodromo Sesano è un appuntamento molto importante per Montecatini. Su questo abbiamo realizzato ieri quando c'è stata la presentazione della nuova stagione anche noi un servizio dunque riproponiamo perché si tratta appunto del via una stagione assai significativa con la primavera e poi l'estate per la cittadina termale. La stagione comincerà il 17 aprile, il 16 luglio in programma il premio Società Terme di Montecatini, il 13 agosto la corsa delle pariglie. Sono le prime date della nuova stagione di Trotto all'ippodromo Sesana di Montecatini che quest'anno festeggia i 100 anni di vita. L'evento Clou come ogni anno sarà comunque il 15 agosto con il Gran Premio Città di Montecatini, tornerà anche il premio Nello Bellè in programma il 27 agosto, la stagione si chiuderà infine il 15 ottobre 2016. In totale saranno 41 le giornate di corse, notturna nel periodo estivo, nei sei mesi di apertura dell'impianto montecatinese. In occasione dei 100 anni dell'ippodromo di Montecatini in città sono previste inoltre diverse iniziative per celebrare il secolo di corse al Trotto. Sicuramente un'occasione particolare è quella che abbiamo riservato al reggimento artiglieria a cavallo che sarà presente qui al Sesana con un cannone, un obice che è stato utilizzato durante la campagna di russa nel 43 con l'ultima carica ufficiale dell'esercito italiano con il Savoia Cavalleria e nell'occasione sparerà un colpo di cannone a salve ovviamente per celebrare la 101esima stagione, la stagione del centenario. A Montecatini scherzando diciamo semplici sono due cose che tutti i veri montecatini si hanno fatto, fare un tiro a canestro e giocare un'accoppiata. Quello che mi piace sottolineare è che l'ippodio Montecatini non è un'entità astratta come accade in altre città, l'ippodio Montecatini è nel centro della città. Tutti a Montecatini hanno vissuto le stagioni d'oro dell'ippodromo e questa fa parte di quella che è la nostra storia, la nostra cultura. Quindi spesso, purtroppo negli ultimi anni da quando c'è stata questa incredibile informatizzazione del gioco si è confuso. Quella che è una corsa dei cavalli con il gioco alle slot, sono due cose totalmente diverse. Il cavallo è cultura, dietro ci sono famiglie che ci lavorano, la slot è un'altra cosa. L'ippica italiana sta attraversando un periodo difficile, dice Edoardo Fanucci, intervenuto alla presentazione parlamentare Montecatinese. Lo Stato non ha più le risorse degli anni passati ma non abbandonerà questo importantissimo settore. È un centenario che deve far guardare il passato non con nostalgia ma con l'augurio che il presente e il futuro possono essere anche migliori rispetto all'eredità pesante che abbiamo sulle nostre spalle. L'ippica è cultura, è sport, è passione. L'ippica vuol dire una filiera che coinvolge tantissime persone sul nostro territorio e che merita di essere valorizzata e difesa. Il nostro compito è festeggiarla per i cento anni e garantirle un futuro radioso che merita. Diamo un'occhiata anche a alcuni articoli che hanno particolarmente colpito sulle principali testate online della stampa nazionale. Cominciamo dall'home page del Corriere della Sera e in primo piano, e questo vale un po' per tutti, poi i quotidiani e gli organi di stampa potete trovare sul web. Naturalmente l'apertura è per il viaggio di Papa Francesco a Lesbo, un viaggio triste per l'immane tragedia. I profughi non sono numeri negli appuntamenti di questo viaggio lampo di Papa Francesco in Grecia. Dunque è un incontro con l'accoglienza da parte di Tsipras e poi le visite recenti d'accoglienza insieme a due patriarchi ortodossi. Tra l'altro approfitto per ricordare che da questa mattina potete seguire sul nostro canale sportivo Sport TVL, il 193 del Digitale Terrestre, tutti gli appuntamenti in diretta di questa visita a Lesbo di Papa Francesco. Dovrebbe concludersi il programma intorno alle 14.30. Fino allora dunque tutta la diretta su Sport TVL, canale 193. Ancora per il Corriere della Sera un articolo sulla preparazione a Milano delle elezioni amministrative. Gli ultimi sondaggi vedono un avvicinamento del candidato del centro-destra diviso al primo turno da meno di due punti dell'ex commissario di Expo Sala, che è il candidato naturalmente del centro-sinistra. La forbice si allargherebbe al ballottaggio. Però in realtà se poi andate a vedere altri siti, ad esempio Repubblica che riporta un sondaggio SVG, si parla in realtà invece di un aumento dei voti in particolare per il PD. Dunque i sondaggi, anche in questo caso, ognuno ha il suo per così dire. Una curiosità ancora dalla home page, molto divertente se si vuole, dalla home page del Corriere della Sera, è un video che è stato postato sul sito dell'Unità che rilancia un filmato che circola sui social. Sarebbe la partecipazione della candidata del Movimento dei Cinque Stelle al sindaco di Roma, la RAGI, che sarebbe tra le protagoniste di un famosissimo video girato nella campagna elettorale di Berlusconi del 2008, il celeberrimo video di Menomale che Silvio c'è. E tra le partecipanti a questo video ci sarebbe stata ancora una cosa abbastanza bizzarra, questa importante esponente dei Cinque Stelle, lei però ha replicato seccamente via tweet, quella ragazza non sono io, comunque grazie per la pubblicità gratuita. Venendo a cose un po' più serie, c'è un interessante articolo di cui consigliamo la lettura nella home page della stampa, che riguarda l'Egitto, isole svendute ai sauditi, Egitto in piazza contro Al-Sisi che è il premier. Di che si tratta? Si tratta del fatto che in cambio, in sostanza di aiuti naturalmente finanziari, aiuti finanziari al grandissimo paese africano, l'Egitto, che è una sorta di veramente collasso economico per le note vicende, l'Arabia Saudita in sostanza sta ricomprando due isole che erano state cedute nel 1950 dall'Arabia Saudita all'Egitto, due isolette che sono giudicate strategiche nel 1950 a seguito delle guerre tra Arabi ed Israele. Questa cessione sta sollevando contro Al-Sisi, il premier egiziano, riportato al potere da un colpo di Stato contro il governo dei fratelli musulmani, in sostanza tutta la parte dei nazionalisti che pure inizialmente avevano sostenuto il suo governo. Ricordiamo che il nazionalismo è una tradizione molto radicata in Egitto, naturalmente dal leadership di Nasser in poi, e questo non è un bel segnale per la stabilità dell'attuale governo egiziano. Molto interessante anche poi un articolo cui si può giungere tramite la home page di Repubblica, è un articolo che appare sull'Aftington Post, che è il quotidiano giornale online, lo firma Lucetta Scaraffia, lo trovate appunto il link nella home page di Repubblica, all'Esbo, non solo per la misericordia. Molto interessante l'analisi che viene fatta da questa giornalista del viaggio di Papa Francesco, leggiamo solo questo passaggio, ma sbaglia che vede nelle parole e nei gesti del Papa solo un generico invito all'accoglienza, a fare di più, in sostanza essere buoni. Questi viaggi infatti segnano linee geopolitiche decisive per il nostro futuro, ed è il futuro che Francesco pensa. Egli vuole comunicare a tutti che l'immigrazione di massa sempre crescente di esseri umani è un problema globale e drammatico che trae origine sempre dalle stesse ragioni di fondo, mancanza di soluzioni politiche accettabili e danni ecologici che provocano siccità e inondazioni, tutti i problemi che si potrebbero affrontare e risolvere se solo fossero colti nella loro origine profonda e nella loro globalità. Invece oggi ogni paese li affronta come emergenze momentanea e cerca di risolverli con provvedimenti miopi che spesso si limitano solo a un gesto di chiusura e di difesa. Molto interessante davvero questo approfondimento dell'Aftington Post che consigliamo e ci si può accedere, come dicevamo appunto, dal sito di Repubblica. Un'occhiata anche a venire, ovviamente l'apertura ampissima è alla visita di Papa Francesco, i profughi non sono numeri ma persone, il Pontefice è arrivato nell'isola poco dopo le 9 e il tweet di Papa Francesco sono volti, nomi, storie come tali vanno trattate in aereo un viaggio segnato dalla tristezza. Il quotidiano del CEI poi torna sulle dichiarazioni del Cardinale Bagnasco, il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, nell'analisi che lui ha fatto presentando la Morris Letizia, l'esortazione apostolica di Papa Francesco a conclusione del Sinodo sulla Famiglia. Poi migranti, Renzi, ecco il piano per l'Africa, il premio rilancia con l'Unione Europea in vista del Consiglio degli Esteri. Vienna, dice Renzi, ci faremo sentire in Italia, 6 mila profughi in 4 giorni, trivelle vicine, quorum lontano, si torna sul referendum per cui si voterà domani e poi il Presidente dello Stato, il Capo dello Stato Mattarella, non dimenticheremo, Regeni, una vita orribilmente spezzata, fare memoria, è un atto di pace, ha sottolineato e giustamente il Capo dello Stato italiano. Diamo un'occhiata adesso a alcuni, almeno degli articoli che ci hanno colpito, di cronaca non locale. Partiamo dalla Nazione che dedica due pagine a un'intervista con un esponente di tutto rilievo della politica italiana, visto che si parla del premio Matteo Renzi. Renzi riparte dal taglio delle tasse, questo è il titolo delle due pagine, molti gli argomenti toccati tra le domande interessanti che vengono poste dall'intervistatore che è Andrea Cangini al premio, prima di fantasticare i tagli fiscali, bisognerà attendere il giudizio dell'Europa sulla manovra economica. La risposta di Renzi, negli ultimi mesi i giornali hanno poventato bocciature e reprimende, invece abbiamo ottenuto 11 miliardi di flessibilità e dal mio punto di vista ancora non bastano. Sulla manovra non ci saranno obiezioni, la manovra è naturalmente la finanziaria. Il referendum, poi si torna, dopo aver parlato di quello sulle trivelle, ma il referendum che più la preoccupa è quello di ottobre sulle riforme istituzionali. Quando ha detto che se lo perdesse se ne andrebbe, cosa intendeva? E Renzi alla domanda ribadisce, abbiamo fatto una riforma importantissima attesa da decenni, se gli italiani non dovessero capirlo considererei conclusa la mia esperienza politica. In assoluto? Si chiede a Renzi, la risposta è in assoluto, mi ritirerei e basta. Dunque davvero il premio ribadisce di giocarsi tutto il suo destino politico, il suo e del governo, su questo referendum il prossimo autunno per confermare o meno la riforma istituzionale in sostanza con il superamento del bicameralismo. Altra notizia molto importante, cui dedica un'intera pagina, la Nazione è sul nuovo codice degli appalti, guerra a tempi lunghi e malaffare. Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva questo dunque importante provvedimento che punta sulla trasparenza e tempi certi, affida un ruolo fondamentale all'autorità anticorruzione di Raffaele Cantone. Di spalla c'è un articolo di commento alle misure che poi potete approfondire naturalmente leggendo l'articolo di Giuseppe Turani, l'aspetto del quotidiano nazionale in materia economica, che sottolinea gli esperti dicono che ancora oggi per costruire una scuola servono una ventina di autorizzazioni ancora di più per sistemare un chilometro di fibra ottica. Ma si cambia finalmente. Con l'approvazione dunque di questo nuovo codice da 2000 articoli si scende a 200, in pratica c'è stata una semplificazione da 10 a 1. Altri due aspetti però importanti a sottolineare, commenta l'articolista, in pratica c'è stata, dice il primo è che il nuovo codice degli appalti segue millematicamente le disposizioni dell'Unione Europea, il secondo è che, il secondo aspetto da rilevare è che l'autorità nazionale anticorruzione ha dato una consulenza importante e sorveglierà da vicino che gli appalti siano regolari, anzi avrà un ruolo centrale appunto nella vigilanza della conformità in un settore davvero critico per l'Italia che è quello degli appalti. Poi si torna sul referendum, il cosiddetto ormai referendum per le trivelle, anche i vescovi mobilitati andate a votare. Se è vero che il Presidente Angelo Bagnasco a margine di un convegno su un documento post-sinodale del Papa, appunto la Moris Letizia, confida che deciderà il giorno stesso se andrà a votare l'accivescovo di Taranto, Ministro della CEP di lavoro, ricorda quanto sia importante ricarsi alle urne. Poi si ricorda che la Chiesa ufficialmente non si è schierata, ha messo le mani avanti il Cardinale Bagnasco. Sappiamo, comunque è uno dei commenti fatti nell'occasione che abbiamo detto, sappiamo che la tecnologia basata sui combustibili fossili deve essere sostituita progressivamente e senza indugio, questo alla luce anche naturalmente della celeberima encilica di Papa Francesco sulla difesa del creato. Altra questione interessante affrontata con un'intervista a un esponente autorevole, sempre sul tema dei migranti, l'intervistato è Mario Morcone che è il capo del Dipartimento per l'emigrazione del Viminale, nessuno pensa che i prefetti possano fare un passo indietro. Il Brennero, i paesi balcanici in Nord Africa, logico che gli amministratori siano preoccupati, in sostanza si parla di come gestire gli immigrati nei rapporti tra Viminale e amministrazioni locali, la risposta è inutilmente, l'accoglienza offre anche opportunità, noi paghiamo il 95%, noi inteso il governo e solo il 5% pesa su di loro che sono comuni e ragioni, non solo sostiene l'intervistato, questi fenomeni attivano volanti, volani, scusate, positivi, peccato che molti sindaci non ci pensino. Quali territori oppongono maggiore resistenza? Resistenza si chiede poi, al sud c'è un atteggiamento meno chiuso, anche in piccole realtà, al centro Nord crescono le resistenze più dure, in alcune regioni dove si immagina di fare così opposizione al governo, ma si tratta di un duplice errore, parliamo di persone, non è sulle persone che si può fare opposizione. Questa stessa vicenda, il piano dunque dell'Italia lanciato da Renzi all'UE, un piano per gestire i flussi, ovviamente i flussi di emigrati, l'Unione Europea lo finanzi con gli euro bond, inadeguate e miopi, così sono state definite dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella le risposte che alcuni paesi dell'Unione stanno dando al problema di emigrazione, povertà, fame, repressione, persecuzioni soffocano le speranze di migliaia di persone, ha sottolineato il Presidente della Repubblica e alimentano il drammatico fenomeno dell'emigrazione che scuota prima ancora che i nostri paesi, le nostre coscienze. Mattarella è tornato a criticare muri e figli spinati davanti ai componenti della Commissione trilaterale nello stesso giorno in cui appunto Renzi ha avanzato questa proposta di un patto europeo sui migranti. Molto interessante poi anche un articolo rilanciato dalla Nazione che riprende uno dei quotidiani, se non il quotidiano più autorevole in assoluto al mondo, New York Times, spicchia duro sull'Egitto, Regeni l'America contro Hollande, tace e fa affari d'oro con Al-Sisi, il New York Times attacca vergogna. Di che si tratta? Si tratta del fatto che di questo attacco contro la Francia che chiude gli occhi sul caso Regeni e si appresta a firmare un'altra ricca serie di contratti, 1,1 miliardi di Euro pagati con fondi sauditi per forniture militari al regime, il regime è quello egiziano, l'abuso dei diritti umani in Egitto nell'era del Presidente Abdel Fattah al-Sisi, scrive il New York Times, ha raggiunto nuovi picchi, ma i governi occidentali che fanno affari e armano il Cairo proseguono a fare business come sempre con la scusa della sicurezza regionale e degli interessi economici. Sottolinea il New York Times, l'Italia ha chiesto a altri governi europei di fare pressione sull'Egitto, martedì il governo britannico ha finalmente chiesto un'indagine piena e trasparente sull'assassinio, qui riferimento a Regeni naturalmente, ma l'ha fatto solo dopo che una petizione è stata firmata da 10 mila persone e la petizione l'ha forzata a rispondere. C'è un silenzio vergognoso della Francia, sottolinea il New York Times. Diamo un'occhiata anche, c'è un articolo interessante sempre sul fronte internazionale stavolta dalla Francia, Frau Merkel si inchina al sultano. Processo accomico anti-Erdogan, autore di un poemetto satirico in Germania, Buffaia sulla Cancelliera. Si tratta di tal Joe Bohe Merman, 35 anni, che è un autore satirico, che ha offeso Erdogan, il premier turco, con una canzoncina trasmessa dallo Zalev, che è il secondo canale pubblico. Il presidente turco non è noto, sottolinea l'articolista. Per il suo senso dell'umorismo i critici a casa sua li spedisce subito in prigione, così ha preteso subito da Berlino di mandare questo comico davanti a un giudice. Il punto è se la scenetta di Bohe Merman, un crozza teutonico con meno talento, fosse satira o vilipendio. Ora questo comico rischia grosso, fino a un anno di prigione se la sua offesa verrà considerata delle identità, se invece saranno trovate degli aggravanti la pena potrà uscigliare da 3 a 5 anni, insomma non si scherza. In Germania peraltro lo ZF, dopo le prime proteste di Erdogan, ha subito tolto la scenetta dal suo archivio mediatico, anche se i dirigenti del canale hanno ribadito di aver approvato la satira prima che andasse in onda e di trovarla giuridicamente a posto. In tutta la storia, le critiche normalmente sono sulla cancelliera da parte dell'opposizione che, per così dire, avrebbe preferito compiacere la Turchia e il suo premier, piuttosto che la libertà di espressione o comunque di satira. Sul fronte toscano c'è una presa di posizione durissima sulla drammatica vicenda dei due lavoratori morti nella frana alla cava di Carrara, una cava conosciuta come fra le più sicure, ma non si può tagliare il blocco su cui si sta lavorando. A parlare all'ingegnere del servizio di prevenzione della ASL, Maura Pellegri, da decenni vigile del settore cave, a Carrara che si è detta estrefatta perché non capisce come un capo cava e un vice lavoratore di comprovate esperienze possano aver adottato una condotta simile. Si tratta, ha dichiarato questa ispettrice dell'ABC del mestiere, non erano in corso pericolose operazioni di bonifica o di messa in sicurezza, si stava effettuando un taglio per l'ampiamento della cava, si stava eliminando una parte non produttiva per arrivare a quella sana del marmo da scavare, se si seziona l'unica parte ancorata della parete è ovvio che crolla. La conclusione è che si parla di errori di valutazione, di errori di valutazione, errore evidentemente gravissimo, perché è costato la vita a due persone, una cosa veramente terribile. Veniamo al Tirreno come ultima annotazione, si parla ancora del viaggio di Papa Francesco in una pagina dedicata al fronte internazionale, molto interessante però è un'altra questione legata se si vuole sempre alla visita del Papa all'Esbo, è la presenza di Sanders in Vaticano per battere Ilari, come ricorda il titolo di Vestati, una visita strategica del candidato Demme, cioè dei democratici in vista del voto a New York, ma con i pontefici nessun incontro. Bernie Sanders dunque in Vaticano, 4 giorni prima delle importantissime elezioni primarie nello Stato di New York e rivale di Hillary Clinton sul fronte della nomination democratica alla presidenza degli Stati Uniti, naturalmente mette in calendario un blitz romano con la speranza non realizzata di incontrare Papa Francesco. Motivo del viaggio è un convegno organizzato dall'Accademia Pontificia delle Scienze Sociali per celebrare i 25 anni dell'encicla di Giovanni Paolo II, centesimus annus. Sia i democratici, questa mossa è inquadrata in un brevissimo commento molto significativo e viene fatto, perché questa scelta in un momento così critico è importantissimo. Sanders in sostanza invece sta a fare campagna elettorale come sta facendo la sua diretta concorrente Clinton a New York, che è uno stato decisivo, si vota martedì prossimo per decidere chi sarà il candidato democratico che competirà con il partito repubblicano per aggiudicare l'evidentemente importantissimo ruolo di Presidente degli Stati Uniti. Perché questa scelta, se si vuole parecchio curiosa di questo Sanders? Perché sia i democratici che i repubblicani non ne possono più del cosiddetto gridlock, cioè l'immobilismo dei politici di Washington, appoggiano figure alternative penalizzando politici navigati come la Clinton e questo sta succedendo sul fronte democratico con appunto questa imprevista e imprevedibile resistenza di Bernie Sanders a quello che sembrava lo strapotere di Hillary Clinton sul fronte democratico, ma sta succedendo anche naturalmente sul fronte repubblicano con questa imprevedibile e imprevista performance di Donald Trump che molto preoccupa il Great Old Party, cioè il partito repubblicano statunitense e il motivo è questo, anche negli Stati Uniti profonda scontentezza verso l'establishment politico. Direi che possiamo fermarci qui per questa rapida disamina dedicata a alcuni dei titoli che ci hanno più colpito i proposti questa mattina dalla stampa e naturalmente per aggiornamenti sul fronte della cronaca, rimandiamo alla prima edizione del nostro telegiornale a partire delle 14.20 su TVL, canale 11, senza dimenticare che potete in queste ore seguire la diretta della visita di Papa Francesco a Lesbo sul nostro canale 193 del digitale terrestre, cioè Sport TVL. Per il momento grazie per la vostra cortese attenzione e buon proseguimento di mattinata. Grazie a tutti.